Un piccolo colpo di scena, Mario Checaglini prima della pensione decide di lasciare le redini di Confesercenti Arezzo. Una decisione secondo le parole trapelate nel comunicato stampa ponderata. Ecco ci spiega le motivazioni. Innanzitutto siamo nella fase elettiva, quindi cambiano i gruppi dirigenti e quindi è logico, è un appuntamento naturale quello di un'occasione di ricambio. Io ho voluto che vi fosse anche ricambio a livello di direzione e quindi ho dato le dimissioni perché comunque ritengo che quando c'è un rinnovamento ci possa essere anche in questo ruolo. Dopo 30 anni peraltro insomma non è che sono pochi, quindi già erano molti. I rinnovi, l'assemblea ci sarà il 26, quindi si rinnoveranno tutti gli organismi, tutte le zone e quindi in qualche maniera l'associazione sarà credo più forte di prima dopo questo appuntamento. Ecco quello che vuole tracciare come bilancio personale in questi 30 anni di direzione. Naturalmente chi ha come me ha avuto un così lungo trascorso ha potuto vedere l'economia retina che andava a gonfie vele, poi le crisi del 2009, del 2011, oggi la pandemia. Ha visto un settore orafo che splendeva, un settore orafo che poi ha marcato il colpo, la crescita del turismo che è stata interrotta purtroppo da questa pandemia. Quindi abbiamo, ecco questo ci ha insegnato che dopo una difficoltà c'è sempre una rinascita e questo credo che sia significativo oggi perché le persone hanno bisogno di speranza dopo questa crisi che sembra non finire mai.